...di Pasqua quest'anno? Non lo so, ho qualcosa che mi porti un po' fortuna, perché ultimamente non ce ne ho tanta. E tu invece cosa speri di trovare? Penso un anellino magari, qualcosa di fashion, qualcosa che sia bello da poter mostrare. Come trascorrerai la Pasqua? Non lo so, sorpresa. Non lo so ancora. E Pasquetta? Altrettanto, sono così, non programmo le cose. Quindi come viene? Sì. Tu invece come trascorrerai? In famiglia. Tutte e due giorni? Sì, sì, tutte e due. O mamma, papà e i parenti, e gli amici se ci saranno. Dipende. Quindi non vai da nessuna parte? No, una mega grigliata a casa mia, perché a casa mia io sono di Ravello, quindi c'è tutto. Ok.